Buonasera, sono il professor Dindiot e in questa lezione parleremo di statistica. Attraverso questa scienza spesso controintuitiva cercheremo di valutare la crisi che il mondo moderno sta affrontando in questi giorni e di capire se c'è spazio per la speranza o se al contrario siamo statisticamente destinati alla rassegnazione. L'Italia è sovrappopolata, è statisticamente provato che tre persone su quattro formano ben il 75% della popolazione e bisognerebbe quindi trovare risorse per tutti. È statisticamente provato che se dai un pesce a un uomo potrà nutrirsi, se invece insegna quell'uomo a pescare passerà tutto il tempo a dormire, ruttare, bere birra sulla sponda di un laghetto. Ed è statisticamente provato che se mostro un'immagine di questo genere non ascolterete una coppola di m***a di quello che vi sto dicendo e annuirete semplicemente con la testa. Fate queste dovute premesse, ci chiediamo, la situazione italiana e internazionale miglioreranno? La buona notizia è che c'è una possibilità su due che ciò avvenga. La cattiva notizia è che è statisticamente provato che ogni volta che c'è una possibilità su due che qualcosa vada bene, c'è il 90% di probabilità che vada di m***a. Per avere delle speranze dovremmo avere fiducia nelle persone, ma abbiamo tutti ben presente quanto sia stupido l'uomo medio. Bene, dobbiamo considerare che statisticamente metà delle persone sono più stupide di lui ed è statisticamente provato che gli uomini che sorridono a questa affermazione finché guardano questo filmato su YouTube sono molto sotto la media e hanno pure il pisello piccolo. Statisticamente il 95% degli italiani dà la colpa di ogni cosa, anche dei propri problemi sessuali alla classe politica, della quale vorrebbe un ricambio totale. Ma ammettiamo che si tengano davvero nuove elezioni. Queste cambierebbero qualcosa? È sempre la statistica a darci una risposta. Prendiamo un caso di elezioni politiche dove ci sono tre candidati, uno di essi farà il bene della nazione, uno è un ladro e l'altro è un farabutto. Nel segreto della nostra urna scegliamo un candidato e siamo pronti a farci la X sopra, quando un amico via SMS ci rivela che l'altro candidato, quello che non volevamo votare, è anche egli un truffatore immatricolato. Ora abbiamo la possibilità di cambiare il nostro voto o di tenere quello che abbiamo scelto. Qual è la probabilità di votare un farabutto tenendo quello che abbiamo scelto rispetto a cambiare la scelta? Voi direte sono rimasti in due, abbiamo il 50% di probabilità. Sbagliato! Tenendo quello che abbiamo scelto abbiamo un terzo di probabilità che non sia un farabutto, quindi al 66% sarà un farabutto. Per questo in Italia vengono eletti sempre dei farabutti, non sono gli elettori a essere rincoglioniti, è la teoria della probabilità. Oltre al fatto che usare SMS in cabina elettorale è vietato e quindi il vostro voto, se diretto verso un candidato onesto, verrà invalidato. La situazione è tragica. Statisticamente cosa potete fare? Potreste puntare tutto sul super enalotto, ma sappiate che la probabilità di morire schiacciati da un autobus nel tragitto da casa vostra al tabacchino è molto più alta della probabilità di fare 6. Potreste puntare sul successo con le donne, ma la probabilità che incontriate una donna disponibile cresce esponenzialmente con la presenza di vostra moglie o di un amico più ricco e interessante di voi o di un orribile herpes sulle vostre labbra. Anche cercare di fare una vita sana è inutile. È statisticamente provato che chi si cura tutta la vita alla fine muore. Qualcuno potrebbe chiedersi, sono attendibili queste statistiche? Beh, l'inutilità delle statistiche è statisticamente dimostrata e sappiate anche che statisticamente il 98% delle persone nel mondo ha provato a fumare uno spinello e il 100% di chi fornisce dati statistici ne ha fumato uno prima di esporre i dati stessi. Ed è statisticamente provato che il 90% di chi prova qualcosa statisticamente sbaglia. Quindi statisticamente questa mia lezione è inutile, sempre se si esclude l'immagine mostrata poc'anzi. Rimaniamo soli con la domanda, ci salveremo dalla crisi? Lo sa solo Dio, ma statisticamente c'è un 70% di probabilità che Dio non esista, quindi siamo statisticamente fottuti. E dato che sapete bene che c'è chi non ha nessun pollo e c'è chi ne ha due, statisticamente possiamo dire che sì, ciascuno ha a disposizione un pollo da mangiare. Ma dato che con la crisi energetica non avremo più gas per cuocerlo, che c***o mangiamo? Un pollo crudo! Buonasera. Grazie a tutti.